La Piazza del Gusto 2.000 m2 di Piazza del Gusto, 11 food corner, 352 posti a sedere, un ristorante, un bar centrale, 800 m2 di soppalco dedicati alla formazione. Il mercato orientale di Genova fu inaugurato il 7 maggio 1899 e da allora è il mercato comunale più grande di Genova. Inizialmente era un mercato all'aperto, poi sono stati costruiti dei lucernai per aumentare proprio lo spazio interno. Con i suoi 100 banchi offre una vastissima scelta di prodotti alimentari, ma non solo.